Aquila 107 a base, l'abbiamo trovata, l'abbiamo trovata! Da oggi il caro vecchio Dottor Jones ha un contendente da temere e tenere d'occhio. Il suo nome è Tadeo, muratore con la testa tra le nuvole, che nonostante non sia fornito della frusta e del fascino da avventuriero di Indiana, è riuscito comunque a espugnare il suo tempio maledetto e a conquistare le attenzioni della bella di turno. Ma che si faccia male! Beh, più o meno. Tu sei un operaio edile, non un archeologo! Le avventure di Tadeo l'esploratore di Enrique Gato è un prodotto che oltre a vivere nella duplice forma di 2D e 3D utilizza un linguaggio ironico e leggero. La sua innocenza, abbinata a un gusto per l'avventura, attribuisce al film una natura più adatta a un pubblico di giovanissimi, con un messaggio dalle intenzioni forse un po' troppo scolastiche, ossia i veri tesori sono da cercare dentro ognuno di noi. Le avventure di Tadeo l'esploratore Da aprile al cinema Da aprile al cinema. Da aprile al cinema. Grazie a tutti.